Danny sa che bisogna prendersi cura di tutte le piccole cose e si deve dare ad ognuno una certa importanza e se anche fuori tutto cambia, la ricetta rimane sempre la stessa 230 gradi e mezzo per 13 minuti di un quarto non un secondo di più, non un minuto di meno Danny sa che c'è l'ampolla per ogni colore un colore per ogni emozione perché le emozioni in fondo non sono nell'altro che chimica e così la paura di una vita passata ad attendere sfuma nel timore di una vita inattesa se per caso qualcosa va storto meglio fingere che tutto sia stato una scelta grazie a tutti